La valutazione di questo prodotto di Samsung è di 9 voti su 10. Per questa categoria, risulta al momento essere il più votato con 495 valutazioni globali. Riteniamo questo prodotto un buon modello adatto alle esigenze di chi cerca qualcosa di semplice, ma allo stesso tempo efficiente. Se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo, clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video. TCL ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 7.8 su un totale di 10 punti. Al momento risulta essere il più regalato. Ecco le caratteristiche che lo contraddistinguono. Ottimo rapporto qualità prezzo. Controllo remoto. Se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. La valutazione finale ha segnato a questo articolo di Ilunga BL e di 8.6 voti su un totale di 10. Risulta al momento essere il più scontato di questa selezione. I suoi punti di forza sono Facile da installare. Ottimo rapporto qualità prezzo. Controllo remoto. Qualità del suono. Se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo. Clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Il voto finale ha giudicato da questo articolo di LG e di 8.8 voti su 10. In questa selezione è il più economico. Le sue qualità sono. Facile da installare. Controllo remoto. Ottimo rapporto qualità prezzo. Qualità del suono. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Questo articolo di Ilunga BL ha riscontrato una valutazione di 8.8 su 10 totali. Risulta al momento essere il più venduto. Le caratteristiche principali sono. Facile da installare. Qualità del suono. Ottimo rapporto qualità prezzo. Controllo remoto. Trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video.